Inizia ufficialmente la campagna acquisti di RBR. Sì, oggi abbiamo presentato ufficialmente Giovanni Tomassini, avevamo già annunciato grande che essendo ancora a casa sua non è potuto raggiungerci a Rimini, però oggi diciamo che è la giornata dell'NVP, l'NVP del campionato scorso, un acquisto molto importante, un acquisto fortemente voluto da tutta la società per fare un regalo alla città, alla piazza, ai nostri tifosi che si meritavano di avere un giocatore altamente spettacolare, un giocatore che sicuramente farà infiammare tutto il Flaminio e noi siamo orgogliosi che Giovanni abbia scelto Rimini per fare un campionato importante. Siete alla ricerca di un terzo italiano di un certo livello? Sì, esattamente, stiamo cercando un terzo italiano altrettanto importante, sarà un lungo, sarà un giocatore che potrà giocare probabilmente i due ruoli, sia nel 4 che nel 5, siamo molto vicini a concludere l'acquisto e quindi siamo veramente fiduciosi di annunciarlo a breve e anche lui sarà un altro tassello importante nella costruzione della squadra.